Ciao ragazzi, oggi vi porto a mangiare il tiramisù più buono di Mirano, ma prima seguimi per non perderti altri video. Sono da Mascherpa, dove fanno tantissimi tipi di tiramisù. Io ho preso una nocciola medium, che costa 5€, è veramente buonissimo e molto cremoso. Ci sono anche quelli piccoli e quelli grandi. Poi l'ho preso un altro al pistacchio, però sono veramente tantissimi gusti.